Questo è il premio che ha mangiato tutta la colazione. Già siamo arrivati alla Cina. Dobbiamo iniziare la giornata? Si è seduto. Questa è la carota, è vero? Aspetta, la zamba mi vuoi dare. Ti piace la carota? Eh sì che ci piace. Meno male che abbiamo il fruttivendolo. A me così puoi mangiare tante carote quando ne vuoi. Aspetta, questa la tagliamo in due parti. Ecco qua. E una. Bravo. E ora se vuoi questa devi saltare. Salta. Guarda. Uno e due. Bravissimo Gohan. Lo spettacolo di Gohan. Grazie.